Ti aspettiamo a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto 136. Il comune di Cava dei Tirreni verrà allestito in piazza Lentini il villaggio dello sport per consentire ai bambini di divertirsi per qualche ora della mattina ma l'evento si svolgerà senza l'allegropodismo su strada quindi una scetaiorde differente rispetto a tutte le edizioni precedenti. Pasquale Scarlino nella sua qualità di dirigente CSI nel presentare l'evento sportivo di domenica ai nostri microfoni spiega il perché di questa variante al programma consueto. Ecco dopo due anni di inattività forzata ritorna la famosa manifestazione del primo maggio con la scetaiorde e il relativo villaggio dello sport che andremo ad allestire in piazza Mabile e all'interno del parcheggio grazie anche alla disponibilità della Metellia. Quest'anno della scetaiorde ha un significato diverso per diversi motivi. Uno perché vogliamo veramente che sia un momento di pace ecco abbiamo detto corri per la pace per la pace. L'altro è che non potendo noi, visto i tempi ristretti, non potendo noi poter organizzare una scetaiorde così come tradizionale anche perché accanto ai tempi ristretti c'è anche un altro tipo di discorso che è quello che il comitato che fa questo tipo di attività e fa giocare 5-600 bambini in forma del tutto gratuita non si poteva permettere la presenza lungo il percorso della presenza dei vigili che ci sarebbe costato qualcosa che al momento ritenevamo di non poter fare. Ecco perché abbiamo deciso di farlo ugualmente questa manifestazione, di darle il significato che giusto che ci sia ma è quindi far sì che tutti i nostri bambini prepareremo lungo lo spazio di piazza Mabile un percorso di 100 metri dove tutti potranno cimentarsi a fare questi 100 metri con un talloncino che all'arrivo andrà a mettere in un grande scatolone dove alla fine sarà estratto una monta bike offerta da Cava Energia. Il tutto, ripeto, solo nella mattinata di domenica 1 maggio dalle 9 alle 13. Abbiamo poco tempo a disposizione per divulgare l'iniziativa, ecco perché ancora una volta ringraziamo voi di Quarta Rete per far sì che questa manifestazione si regole il più possibile. Pertanto aspettiamo genitori, bambini, insomma tutti quelli che vogliono cimentarsi a trascorrere una bella giornata di sport di venirci a trovare perché all'interno del villaggio dello sport ci sono le attività tradizionali dalla pallavolo al mini basket al percorso misto, insomma c'è la possibilità di potersi divertire. E con noi saranno anche le due scuole di atletica, Fiora Locchiello per quanto riguarda l'atletica su Cava e su Nocera, le due scuole Pietro Mennea e la Supino che si cimenteranno anche in attività normale che fanno durante le loro lezioni settimanali. L'allegropodismo su strada non c'è? Quindi l'allegropodismo su strada purtroppo, ripeto, sia ai tempi stretti ma sia soprattutto un discorso di natura anche economica. E a questo punto vorrei sommessamente rivolgermi all'amministrazione comunale, al sindaco, agli assessori, al consiglio comunale e ai dirigenti stessi che nel momento in cui vanno ad approvare questo piano di riequilibrio, ecco, tengono presente che manifestazioni come la Sceta Iordela, San Lorenzo e tante altre non possono essere, tra virgolette, mortificate perché ritengo che sia un patrimonio della città. Ci sono le possibilità, anzi, laddove hanno bisogno di poter trovare una sponda per far sì che, di trovare delle giustificazioni a queste manifestazioni, noi come mondo sportivo siamo a disposizione perché, ripeto, non possiamo mortificare manifestazioni che hanno fatto e continuano a fare la storia di Cava dei Tirei.